e questa è l'antonella la milano fashion week letizia petris ospite da da philip lane oggi ho visto che gretta rossetti al fitness al fitting scusate però non la vedo all'evento stasera e letizia si era lamentata di non essere nata a venezia però insomma si fa le sfilate che forse è più interessante non lo so per lavati ero qui al trucco oggi pomeriggio prima degli eventi fashion sempre la sua pelle ambrata questi capelli settosi molto molto carina come sempre e chiudiamo con le foto del giorno eccole qua ecco la greta oggi pomeriggio vi trovo al prossimo video ciao